God Save the Wine, siamo qui a interrogarci in questa sfera di cristallo a vedere il vino che verrà e partiamo bene, partiamo da le nostre grandi risorse cioè il sud Italia dove però troviamo un personaggio che siamo abituati a vedere al nord, giusto? Giusto, giustissimo, infatti da pochissimo collaboro con Feu di San Gregorio proprio per rivalutare questa terra straordinaria che è l'Irpinia dove ci sono delle gemme che sono sicuramente storiche ma che vanno riscoperte Quindi per esempio l'Irpinia la prima cosa che viene in mente è i vini bianchi Questo è assolutamente vero, tant'è che presentiamo appunto questo double che è un metodo classico da falanghina, questa doppia visione, questa doppia faccia che può avere il vitigno tradizionale come la falanghina che viene vinificata appunto con una permanenza sui lieviti in bottiglia intorno ai 18 mesi ed ha sicuramente un carattere di unicità E quindi andiamo a assaggiare se effettivamente va la pena spumantizzare la falanghina Per spumantizzare quali sono le caratteristiche di avere un vino o un'uva per dare un grande spumante? La spumantizzazione con la rifermentazione in bottiglia generalmente richiede dei vini abbastanza neutri In questo caso la falanghina è leggermente aromatica ma non è un'aromaticità dolce e quindi mantiene proprio questa finezza credo anche durante la permanenza sui lieviti che dona complessità ma mantiene una piacevolissima bevibilità Ecco, in effetti assaggiando direi che si ritrova con la piacevolezza che fa sì che la falanghina sia diciamo dall'abbinamento della mozzarella alla pizza a qualsiasi pesce è sempre ideale Direi che la bollicina lo esalta un po' queste caratteristiche? Lo esalta, lo rende sicuramente molto più trasversale anche come abbinamenti per esempio con delle alici fritte credo che sia una bellissima opportunità Parlando invece dei rossi perché ovviamente l'Irpinia è famosa anche per i rossi o meglio dovrebbe secondo me essere famosa per il grande Taurasi, il nebbiolo del sud Assolutamente, è uno dei vitigni più importanti di tutto il panorama italiano e abbiamo proprio vicino ad Avellino questo villaggio arroccato Taurasi che dà dei vini di una profondità straordinaria è un suono vulcanico, ricco, fitto e questo nei vini si sente sono vini poderosi che hanno dei tannini e quelli sicuramente sono più confacenti con questa stagione E quindi appunto col freddo perché c'hanno alcol, è un abbinamento del Taurasi classico volendo? Beh sicuramente con le carni rosse, specie se hanno delle cotture abbastanza brevi dal mio punto di vista la classica bistecca oppure anche con formaggi ma non eccessivamente maturi Perfetto, quindi allora direi che è già un bel futuro nell'immediato Taurasi per cambiare un grande rosse per il sud e la bollicina della falanghina da qui all'estate Perfetto, sì, poi se vogliamo proprio spezzare le due stagioni mettiamo un fiano pietra calda che riesce ad essere trasversale in tutte le stagioni E il fiano, lunga vita il fiano anche a lui Grazie 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 Grazie